se avete guardato con attenzione il video precedente sullo strumento sfoca lo strumento nitidezza non dovrebbe rappresentare nessun mistero per voi si tratta infatti di un pennello che non fa altro che andare ad aumentare la nitidezza delle aree della nostra immagine su cui noi andiamo a pitturare vedete che dopo poche pennellate abbiamo un contrasto e una precisione di contorni nettamente superiore ovviamente non bisogna mai esagerare io qui ho decisamente esagerato così che si possa vedere l'effetto ma è sempre bene fermarsi a una massimo due pennellate perché altrimenti nonostante ci sia la spunta su protezione dettagli che dovrebbe servire a minimizzare l'effetto pixel e l'effetto artefatti vedete che in realtà l'immagine si deteriora molto facilmente con l'utilizzo di questo strumento quindi è bene usarlo con assoluta parsimonia e mantenendo sempre la durezza a zero in maniera tale che non si vedano i segni del tratto proprio come un pennello normale